... ... ... ... ... Che è? Ah, dove vai scendere? ... ... ... ... ... ... ... Ma chi va su a diglielo? Chi va su a diglielo? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. Dove a scendere? Dobbiamo scendere perché sono tornati in giù e tutti e non lo so c'è che bisogna andare di là, sto grattacuro, di qua non so se vai giù, perché non so se c'è la cresta che finisce di là, perché mi sembra che arriva di là, però non so in sicuro. Torniamo giù. No, di qua andavamo giù e li becavamo sotto, c'è la cresta, dopo se non c'è tocca tornare indietro tutto il petto, andiamo giù di là. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.